Non si ferma l'attività del comitato che ha iniziato la sua battaglia per la stazione di Medio Etruri ad Arezzo. Stavani volantilaggio la stazione ferroviaria prima della partenza del Freccia Rossa per Roma. Noi abbiamo lanciato questa petizione a dicembre dell'anno scorso e stiamo continuando con la raccolta firme. In questi giorni siamo nella stazione di Arezzo anche per sensibilizzare i vari pendolari che percorrono a media e lunghe distanze per quanto riguarda questa importante opera di una futura. Si spera la stazione d'attrocità alle porte di Arezzo. Le reazioni dei pendolari e dei viaggiatori? Per ora molto positive, sono rimasti entusiasti di questa nostra iniziativa. Alcuni erano un po' non felicissimi, però la maggioranza erano ben contenti di questa nostra iniziativa. Ma la questione, visti i riscontri, è di carattere politico e qui le idee dovranno essere chiare poiché ognuno propende per soluzioni diverse. Arezzo ha perso una grande opportunità fin dagli anni 90, dall'epoca della realizzazione del tratto direttissimo Roma-Firenze. È l'ora che la politica retina torni a contare un po' di più. Noi diciamo meno poltrone, più investimenti, più opere pubbliche. Del resto la provincia di Arezzo e con essa tutte le vallate che la esprimono insieme alla città capoluogo non rivendica, ha un ruolo determinante per comparto produttivo, filiera turistica, bacino, flussi di persone che ogni anno costantemente attraversano queste splendide vallate. Quindi non è una polemica o una logica di campanile, è una necessità e una posizione geografica ben definita.